Lo scopo del nostro corso di arte non è tanto dare nozioni di arte contemporanea agli studenti, quanto di far capire come nell'arte del Novecento, dopo Duchamp e le varie sperimentazioni che abbiamo avuto nel corso del secolo, l'oggetto diventa qualcosa che entra a far parte di un intenso e complesso campo di significati. L'idea è quella di costruire una guida del territorio attraverso Twitter. Grazie a tutti.